Si chiude per questo 2020 la stagione del campionato mondiale Superbike che ha ospitato oggi l'ultima tappa del mondiale al circuito di Estoril quindi doppia tappa portoghese dopo quella di Portimao c'erano vari elementi di interesse per questa tappa se Jonathan Ray avesse vinto la centesima gara se avesse conquistato il titolo che era abbastanza facile da conquistare per la verità e chi sarebbe stato il campione della Supersport recente ebbene tutte queste domande hanno avuto risposta e partiamo con la categoria regina con la Superbike perché come da pronostico per la sesta volta nella carriera per la sesta volta consecutiva il cannibale Jonathan Ray è campione del mondo Superbikes 6 in a row come recita l'hashtag per il nord irlandese che qui lo vediamo ritratto di fianco alla sua ZX1000 Kawasaki per il sesto titolo del mondo un sesto titolo del mondo che in realtà è arrivato in condizioni abbastanza strane perché dopo la qualificazione dove ci sospettavano i due contendenti comunque nelle prime posizioni ovvero Ray e Reading sia l'inglese sia il nord irlandese della Kawasaki hanno fatto veramente fatica Ray partiva a quindicesimo addirittura dopo la qualificazione per gara 1 e Reading addirittura ultimo per un problema tecnico la carriera di tornasole diciamo di questo campionato del mondo è arrivato a 16 giri dalla fine dove Scott Reading per un problema tecnico ha dovuto abdicare, si è dovuto ritirare e ha consegnato di fatto un titolo che per la matematica teneva aperto ancora i conti tra Reading e Ray ma era abbastanza improbabile che il cannibale perdesse questo titolo del mondo il sesto consecutivo che dunque ancora una volta arriva a casa Kawasaki per un campione, un fuoriclasse che è Jonathan Ray Jonathan Ray che peraltro ha pagato la posizione arretrata di qualificazione perché non ha vinto addirittura nessuna delle tre gare quindi uno dei tre elementi di interesse ovvero se Jonathan Ray avesse raggiunto le 100 vittorie o meno in carriera di Superbike è venuto meno perché Ray si è piazzato quarto in gara 1 ha fatto podio in gara 2 se non sbaglio e appunto nella gara della domenica è caduto ed è arrivato il 14esimo quindi aspetteremo l'anno prossimo per le 100 vittorie ma dobbiamo comunque celebrare ancora una volta quello che secondo me è un fuoriclasse di questa categoria è un campione che punterà ancora una volta a riscrivere pagine e pagine importanti di storia anche nell'anno prossimo perché il pacchetto Kawasaki Ray è effettivamente imbattibile è un po' magari in misura minore rispetto a quello che fu Mark Marquez Honda in MotoGP però è evidentemente lui il Go2Guide è evidentemente lui coloro che Yamaha e soprattutto Ducati dovranno cercare di battere il prossimo anno ma nel presente dobbiamo inchinarci di fronte a cotanta bellezza e a cotanto talento e a questo fuoriclasse nordirlandese per quanto io non sia un tv della Kawasaki bensì della Ducati in particolare del team ufficiale Aruba che comunque oggi si è tolta una grande soddisfazione Ray appunto con 99 vittorie, una costanza straordinaria che è sempre stato il marchio di fabbrica del nordirlandese va a dominare ancora una volta un campionato del mondo che tra l'altro non era partito nei migliori auspici perché a Phillip Island Ray era caduto e Reading ha fatto tre volte sul podio addirittura Alex Lowe su compagno di squadra di Jonathan Ray era in testa al campionato del mondo prima del lockdown nella ripresa poi estiva autunnale il cannibale ha dimostrato che ancora una volta lui l'uomo da battere si è portato a casa il sesto titolo consecutivo in classe regina e attenzione perché la Kawasaki svilupperà poi il progetto di questa moto già nell'anno prossimo e dunque bisognerà vedere quanti step potrà fare in avanti la casa giapponese per fornire ancora una volta a Ray il settimo eventuale titolo del mondo consecutivo per la Konaka ci sono stati anche dei vincitori in realtà perché effettivamente il titolo del mondo Ray l'ha vinto sabato ma dobbiamo anche dare spazio effettivamente alle gare che ci sono svolte perché come vi dicevo Ray ha avuto gestione diciamo in queste tre gare della domenica in particolare alla gara della domenica pomeriggio ma le due gare iniziali quindi la sprint race e soprattutto la gara 1 sono state dominate da un solo uomo che è sulla Yamaha ufficiale ovvero il turco Toprak Razgat Yoglu che dunque va a vincere la quinta volta in carriera considerato anche la gara della domenica mattina dimostrando un passo suntuoso perché su questa pista portoghese di Estoril il turco di casa Yamaha si è trovato veramente benissimo a partire già dalla qualificazione del sabato un dominio assoluto rispetto alla concorrenza consegna al turco due vittorie sulle prime due gare purtroppo per lui non riesce a vincere gara 3 se così possiamo chiamarla la gara della domenica pomeriggio perché sulla sua strada trova un altro pilota che ha dato veramente l'anima e mi ha fatto veramente esaltare sul divano sto parlando del pilota della Ducati ufficiale Chad Davis che all'ultima gara della carriera in superbike con la Ducati quantomeno si toglie il lusso di vincere una competizione che lo ha visto dominare Chad Davis ha avuto un passo veramente mostruoso costantemente sul 36 basso 37 alto insomma tanta roba per un pilota che era all'ultima gara della carriera con la Ducati ufficiale il suo posto verrà preso da Michael Rinaldi che in gara 2 ha fatto sesto comunque un risultato consono alla moto clienti che ha è un peccato perché da una parte perdiamo un gran bel pilota che è Chad Davis dall'altra comunque Ducati premia il pilota italiano che ha fatto un gran bel weekend ad Aragon con una moto direttamente inferiore per il resto ha fatto risultati comunque in top 10 facendolo risultare il migliore dei nostri centauri qui in Superbike appunto personale su Chad Davis è un pilota che a me è sempre stato simpatico è un pilota che ha dimostrato comunque di saper contendere un titolo del mondo si è trovato davanti purtroppo quel fuoriclasse che è Jonathan Ray ed è un peccato che dopo sette stagioni il gallese debba lasciare la casa di Bologna io mi auguro che un posto per lui in Superbike ci sia anche nell'anno prossimo magari ipotizziamo uno scambio con Rinaldi da Goeleven a Daruba per il Romagnolo e viceversa per il gallese perché ripeto un Chad Davis che rischia di stare a piedi o magari debba riciclarsi nel British Superbike secondo me è veramente troppo per un pilota del suo talento un pilota che ha vinto con la gara di oggi pomeriggio che si è inclusa poco fa peraltro la ventottesima gara con Ducati ufficiale in 185 gare ed è giusto celebrare anche Chad Davis nella sua ultima gara di questo 2020 per il pilota gallese purtroppo non suona l'inno ufficiale del Galles che è la terra dei nostri padri o degli inni più belli da sentire dal punto di vista musicale ma suona God Save The Queen e con questa vittoria il gallese si issa sempre di più al terzo posto in classifica del campionato ed è veramente ripeto un peccato che l'anno prossimo almeno a oggi il terzo classificato della classifica del mondiale Superbike non abbia neanche una moto per l'anno prossimo Top Razgatioglu nonostante le due vittorie e per due volte ha suonato il suo inno quindi l'inno nazionale della Turchia la marcia dell'indipendenza arriva alla quarta posizione finale e probabilmente poteva puntare già a qualcosa di più paga purtroppo il turco a qualche gara sbagliata ad Aragon in particolare e le due non partenze di Barcellona ma dei giudizi individuali ne parleremo bene mercoledì quando farò il pagellone dei promossi e bocciati del mondiale Superbike 2020 vediamo un po' gli altri podi prima di passare anche alle altre categorie perché c'era un altro titolo da assegnare in questa giornata era la 300 podio di gara 1 quindi Razgatioglu primo doppietta di podi per Chad Davis in questa giornata di Astoril secondo in gara 1 e terza posizione per un sorprendente Garrett Gerloff pilota americano che è da tenere d'occhio l'anno prossimo ancora in crescita il pilota che è venuto quest'anno dal Moto America al primo anno quasi top 10 per lui ma veramente ha dimostrato di saperci fare in particolare nelle gare sprint perché Garrett Gerloff fa un altro podio dietro Toprak in gara sprint e addirittura c'è tripletta Yamaha perché Michael van der Mark fa terzo davanti a Davis in gara sprint e anche per Michael van der Mark è l'ultima gara in Yamaha e si congeda alla grande con un podio prima di andare l'anno prossimo in BMW il podio invece di gara 2 o gara 3 se vogliamo chiamarla visto che sono tre gare per weekend regala a me tifondo da Ducati veramente una gioia perché non solo Davis è primo ma Scott Redding fa secondo doppietta Ducati e terza posizione per Toprak che in questo weekend ha dimostrato di essere veramente in palla peccato appunto per quella parte centrale di qui sopra che gli ha fatto perdere le posizioni diciamo da podio del campionato del mondo ancora una volta il primo è comunque Jonathan Ray che vince con 55 punti di vantaggio alla fine su Scott Redding Ray tra l'altro che cade in un attacco proprio su Toprak nell'inizio di gara 2 e poi deve rientrare in pista quattordicesimo per la cronaca Kawasaki vince anche il campionato costruttori ed è una vittoria tiratissima perché soltanto per un appunto di differenza la casa giapponese batte la casa di Bologna ed è merito di Chavi Forest che con un ottavo posto con la Kawasaki del team Puccetti regala quel punto in più di differenza alla Kawasaki peraltro anche Forest andrà via dalla Kawasaki del team Puccetti e appunto si congeda con la consegna di fatto del titolo al casa giapponese per le marche in ogni caso è stata la gara degli addis la gara delle storie umanamente molto belle è la storia dei riscatti personali Van der Mark scongida bene dalla Yamaha prima di andare in BMW Chas Davis si riscatta e vince la seconda gara della stagione in questa domenica pomeriggio ancora una volta abbiamo visto che Topra che nelle condizioni giuste può essere un gran bel talento per il futuro insomma c'è tanta carne al fuoco in questa Superbike 2020 che si è appena conclusa e ce ne sarà ancora di più nella Superbike 2021 parentesi sugli altri italiani il migliore in classifica rimane Michael Rinaldi che fa ancora una volta facile top 10 in tutte e tre le gare Federico Caricasulo fa punti soltanto nella terza competizione ed è uguale il migliorizzato in carriera prima di tornare evidentemente in Super Sport 600 l'anno prossimo un altro italiano che era presente in questa gara era Matteo Ferrari che ha sostituito Samuele Cavalieri e Marco Melandri sulla Ducati del Timbarni punti per il vice campione mondiale di Formula E di quest'anno e campione mondiale di Formula E per lo scorso anno in ogni caso è una Superbike che l'anno prossimo avrà ancora piloti italiani al Via in particolare Andrea Locatelli ma di lui ne parleremo dopo assegniamo i rider del giorno prima di andare alla Super Sport 300 per questa volta bisogna premiare assolutamente rider del giorno non si può esimere Jonathan Ray da ricevere il mio premio perché 99 vittorie in carriera in Superbike un titolo vinto meritatamente una costanza di rendimento mostruosa fa di Jonathan Ray ripeto un uomo da battere anche per l'anno prossimo rider del giorno sicuramente Chad Davis per i motivi che ho detto prima all'ultima gara con la Ducati Ufficiale una vittoria non poteva che essere l'addio migliore per la squadra di Bologna che l'ha applaudito tantissimo nel parco chiuso quindi grande prestazione per il pilota gallese ultima premiazione del rider del giorno la do a questo ragazzo Eric Granado che è all'esordio in Superbike da wildcard con l'onda del team e con una moto nettamente inferiore fa punti in una competizione dunque è giusto premiare anche questi piloti che si affacciano per la prima volta al mondo della Superbike con le wildcard dunque il brasiliano fa punti a Estoril pista che tra l'altro già conosceva mercoledì dunque parleremo del pagellone per quanto riguarda la Superbike chiudiamo invece il Racing Podcast per questa categoria parlando della 300 e della 600 perché nella Super Sport 300 c'era un titolo del mondo ancora da assegnare e se la giocavano due olandesi ovvero Jeffrey Buis e Scott Deru e il titolo del mondo della 300 di quest'anno è andato a questo ragazzo a Jeffrey Buis olandese del team MTM Motoport che è arrivato davanti a Scott Deru nella prima delle due gare e ha diciamo vinto a 19 anni il primo titolo del mondo della carriera per un team MTM che ha veramente dominato questa competizione della 300 questo mondiale in generale lui e Deru avevano fatto sempre dei grandi passi in avanti tante costanze tante posizioni a podio per loro due purtroppo non è stato così per loro nelle gare di Estoril perché hanno vinto altri ma il sesto posto di Jeffrey Buis in gara 1 e l'ottavo di Deru consegnano al giovane olandese il titolo del mondo le gare rispettivamente della Super Sport 300 1 e 2 la vincono Mika Perez per quanto riguarda gara 1 su Kawasaki del team Prodina italiano per Mika Perez suona la marcia reale nazionale spagnola seconda posizione per Cole Murphys e terza posizione per Tom Buthamos pilota britannico che l'anno prossimo rimarrà in questa categoria e secondo me sarà uno dei papabili contendenti al titolo 2021 in gara 2 Cole Murphys si riscatta ed è anche lui un piatto del team MTM Motoport segno che questa moto evidentemente è quella da battere per Möphys suona Helt Videl musica nazionale olandese seconda posizione per Samuel Di Sorà al secondo podio in stagione per il piatta francese terza posizione ancora per Mika Perez che con questo posizionamento chiude in quinta piazza il campionato a 112 punti il mondiale Jeffrey Wies lo vince con una caterba di punti di vantaggio su Derou che in gara 2 finisce addirittura fuori dai punti il migliore dei italiani in classifica è stato Thomas Brianti che è dovuto passare per la gara di qualificazione in questa gara portoghese e finisce undicesimo in generale a 80 punti chiudiamo con la 600 che anche questa ha chiuso i battenti e stranamente non poteva mancare la vittoria di Andrea Locatelli il dominatore assoluto di questa competizione ha vinto 13 anzi 12 gare sulle 15 disputate e vince gara 1 in scioltezza di fatto e per lui suona fratelli d'Italia nel nostro lino nazionale seconda posizione per Fili Pötel che fa il quarto podio in stagione con la Kawasaki del team Puccetti e si conferma sul terzo caderno del podio Hannes Sommer di cui avevo parlato già nel video scorso molto bene ancora una volta il pilota Estone si congeda dalla Supersport Locatelli si congeda anche Lucas Maia che con la Kawasaki del team Puccetti va a vincere gara 2 e l'anno prossimo il francese sarà un rookie di lusso della Superbike perché rimarrà con Puccetti ma andrà a sostituire Xavi 4S in Kawasaki Maia a 32 anni avrà l'occasione di debutare in Superbike e si congeda dalla Supersport con la vittoria ipermeritata in una gara tiratissima che ha visto coinvolti 5-6 piloti per Maia suona la Marsigliese per l'ultima volta in Supersport Locatelli comunque non si esime dal fare podio e fa secondo e terza posizione per un altro italiano Raffaele De Rosa che fa una grandissima prestazione soltanto il quarto podio stagionale De Rosa forse poteva anche vincerla questa gara di Supersport 600 ma comunque è un'ottima prestazione per uno degli italiani più competitivi degli ultimi anni Locatelli a parte del campionato Supersport 600 che va in archivio con il dominio assoluto di Locatelli che neanche Kenan Sufoglu tempi d'oro 333 punti per il pilota Bergamasco contro i 229 di Maia 4800 punti di vantaggio non l'idea di cosa abbia fatto Locatelli ovvero il bello e il cattivo tempo e sono curioso di vederlo in Superbike perché Locatelli andrà ad affiancare Toprak Rasgatioglu un team Yamaha ufficiale veramente interessante dal punto di vista della nomea dei piloti e a proposito di Superbike vi lascio ancora una volta con la classifica ufficiale con Ray che vince di 55 punti di vantaggio il mondiale Susco Trading sesto titolo di fila per il cannibale il saluto da parte di Matthew Thorgard la programmazione con i video sarà la seguente domani alle 14 post gara del gran premio di MotoGP che ha corso ad Aragon martedì invece parleremo delle World Series della MLB che partiranno giusto il 20 di ottobre dunque presenteremo chi saranno le finaliste peraltro stasera c'è gara 7 Atlanta contro Los Angeles e mercoledì pagellone del mondiale Superbike 2020 per il 20 di ottobre 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 Grazie a tutti